I problemi sociali della città... Continua il dibattito sull'ordinanza del sindaco Fanfani che vieta l'esercizio del gioco d'azzardo di vecchia e nuova generazione in un raggio di 500 metri dai luoghi di ritrovo, soprattutto dei più giovani. Senza dubbio è uno dei primi comuni che mette in atto un'ordinanza di questo genere seguendo una legge che ci consente di non aprire sale del gioco d'azzardo nei 500 metri attorno a strutture significative, appunto scuole, chiese, zone di aggregazione. Tutti gli assessori hanno espresso la convinzione che il potere politico debba essere una guida morale per i cittadini facendo comprendere che il gioco d'azzardo può sì rappresentare un guadagno per gli esercenti e per le istituzioni ma mai per la salute di chi ne è vittima. Il comune di Arezzo si fa promotore assieme ad altri comuni cito il più importante che è quello di Milano di una proposta di legge di iniziativa popolare che vada appunto nella direzione che dicevo. È da Roma, è dal Parlamento nazionale che può partire un vero e proprio percorso educativo e legislativo di cambiamento rispetto a quello che succede. Io voglio solo citare un dato. In Toscana, secondo una recente statistica, la spesa media pro capite nel gioco d'azzardo è di 117 euro. È un primo atto molto limitativo per adesso ma ci auguriamo che sia possibile in un prossimo futuro fare qualcosa di più perché la ludopatia sta iniziando a diventare veramente una dipendenza vera che colpisce quasi 800 milioni italiane.